Voi che da terre straniere mi seguite e siete compagni del mio viaggio. 34 studenti appartenenti al laboratorio del teatro classico del liceo, GB Vico di Nocera Inferiore, porteranno questa sera sul palco dell'Auditorium Sant'Alfonso di Pagani l'opera di Euripide, Ifigenia e Naulide. L'iniziativa culturale nasce dalla collaborazione con il Rotary Club Nocera Inferiore a Pudmonte. Vestito della Sacra Pelle di Cielo, poi crolla a te, mentre insegue il sangue del capo sacrificato per divorare le sue carni crude e su. Abbiamo accolto l'invito graditissimo del Rotary a partecipare a questa serata di solidarietà organizzata per sabato sera 25 marzo alle ore 20 all'Auditorium e i nostri studenti, la dirigente scolastica sono stati entusiasti di accogliere tale invito. Il laboratorio teatrale di teatro classico del liceo porterà in scena l'Ifigenia e Naulide di Euripide con 34 studenti sul palco dell'Auditorium Sant'Alfonso di Pagani e invitiamo davvero tutti a partecipare a questa rappresentazione che è fortemente intensa e anche momenti molto poetici che incanteranno il pubblico. La loro corsa sfrenata al monte a partecipare!